Salve a tutti i giocatori, benvenuti nel nostro nuovo video e oggi nuove carte Crystal Beast Vediamo come verranno messe, cioè quali effetti avranno queste nuove carte Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale, vi posto ai link social in descrizione per rimanere sempre a gioco di un mondo yogi Grazie mille e andiamo a vedere le nuove carte Bestia Cristallo Quindi dai, andiamo a vedere se ci sarà un potenziamento per questo archetype Allora, Crystal Protection, targettiamo un Crystal Beast che controlliamo, lo spacchiamo e poi spacchiamo un Crystal Beast Token con lo stesso tipo originale, attributo, livello, attacco e difesa Poi sul mostro Bestia Cristallo viene piazzato in zona magia e trappola e questa carta è nel cimitero e c'è durante il damage step Possiamo abbondire questa carta, specializziamo un Crystal Beast, la zona magia e trappole Praticamente col primo effetto te lo spacchi, ti gali praticamente una creatura Con il secondo che si dovrebbe attivare subito, dato che te lo spacchi Te rievochi un altro mostro, ok Ci fa praticamente una doppia evocazione, più o meno Ci sta, carina, carina Poi, carta trappola Crystal Grace Possiamo attivare il secondo effetto una volta per turno Ok, quindi il primo effetto non è una volta per turno Specializziamo fino a due mostri della zona magia e trappola Bestia Cristallo e guadagniamo LP Uguale all'attacco originale totale Se è un Crystal Beast viene piazzato in zona magia e trappola Mentre questa carta è nel cimitero Possiamo abbondire questa carta Scaviamo la prima carta del mazzo Se è un Crystal Beast lo aggiungiamo alla mano Lo specializziamo oppure lo mandiamo al cimitero Ok Ok, carino di far fare anche questa doppia evocazione Tutte le carte comunque ti fanno fare tante evocazioni Dal In zona magia e trappola Il problema è che Credo manchi qualcosa e Te li mandi a manetta Quindi Il problema sta un po' alla base Poi Crystal Miracle La counter d'archetipo Il primo effetto non è once per turn Quando viene attivata una magia e trappola L'effetto è un mostro Spacchiamo un Crystal Beast e controlliamo Se lo facciamo con l'attivazione Spacchiamo la carta forte Molto forte Se è un Crystal Beast viene piazzato in zona magia e trappola Mentre questa carta è nel cimitero Possiamo abbondire questa carta Piazziamo un Crystal Beast Un malo deck Un cimitero Scoperto in zona magia e trappola Ok, questa è la carta più forte che ci può stare A quanto pare il deck Dovrebbe essere un Greg First Ok Allora, questa è molto forte Il mazzo ha le fusioni per otticappare Per rimischiare tutto nel mazzo Che si pompano E ok Ma penso Questa sia abbastanza forte come carta Per ragionare in tre per Sia perché nega E sia perché comunque ti mette Carte nella zona magia e trappola Settate Quindi Partendo per primo Ti puoi settare tutto Neghi l'effetto Poi il turno 2 Ti ricali tutti i Crystal Beast Che ti sei messo Nella zona magia e trappola E magari Con gli effetti di queste carte Ci potrebbe Ci potrebbe stare Il mazzo ancora È un po' Difficile da inquadrare Queste carte hanno potenziale Però manca effettivamente Ancora qualcosa E Ovviamente adesso non bastano Sono poche Sono buone ma Non sono Non sono ancora Sufficienti Sono buone ma non sono sufficienti Detto questo Fatemi sapere cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti